Musica Questa sera l'Associazione Fiore di Rino insieme all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Sirianni e dal vice sindaco Mario Caligiuri alla prologo del presidente Antonio Ferrante e dall'Associazione Dalot il cui presidente è la dottoressa Antonella Paola e col contributo della Regione Calabria ha voluto consegnare un attestato di merito per aver continuato l'impresa storica di famiglia contribuendo allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità alle signore Adele Filippa Tomasello e Teresa Rocca due imprenditrici della nostra città l'Associazione con l'onore di rappresentare è da sempre impegnata nella promozione culturale del territorio cittadino e dallo sviluppo del commercio e delle aziende imprenditoriali di tutta l'area del Reventino grazie a tutti